Signore e signori buongiorno e benvenuti nuovamente a tavola con il motore. Oggi insieme a me ho due graditi ospiti, alla mia sinistra Marzia Benini e alla mia destra Roberto Zalaffi e poi vi svelerò più avanti il motivo della loro presenza. Nella scorsa trasmissione a tavola con il motore vi avevamo lasciato con questa foto che prego di mandare in onda in cui si vede questo cippo. Questo cippo si trova sulla Cassia dopo Bonconvento in direzione Roma dopo aver passato la famosa villa della Rondinella nei pressi quindi del ponte sul torrente Serlate. Per allacciarsi all'argomento che ci aveva visto la scorsa trasmissione sulla storia della Mille Miglia il cippo fu eretto in ricordo della tragica scomparsa di Enrico Benini avvenuta durante la quarta edizione della Mille Emilia nel 1930. Ora vi proporremo un filmato nel quale si vede come era il cippo una volta, come è stato ritrovato, come è stato restaurato e poi riposizionato. Quindi prego di mandare in onda questo filmato che è stato fatto dal Siena Club Automoto d'epoca e di conseguenza dall'Automoto lebbe storico italiano. Questo era il cippo così come si intravede diciamo in quella evidenziazione in arancione visto da una parte e dall'altra e poi si vede il cippo come è stato ritrovato e cioè è stato ritrovato nella scarpata in queste condizioni non certo ottimali come vedete con arbusti sopra e soprattutto in mezzo anche alcuni rifiuti che la gente non benissimo mette e manda lungo le strade. Qui è l'opera di ripescaggio di questo grosso cippo che pesa quasi 900 kg per darvi un'idea e qui rapidamente ora si vede come si usa ora nei filmati rapidamente viene trasportato dal Marmista a Buon Convento viene scaricato e poi vedremo come vedete ancora con dei pezzi di arbusto sotto che non erano non si riusciva a togliere quasi si fossero scimentati dentro e qui si vede la scritta si intravede la scritta che poi vedremo meglio. Il cippo poi è stato ripulito e restaurato in parte si vedeva nel filmato nelle immagini precedenti quei fori che c'erano e poi viene predisposto il luogo per la sua riposizionatura e qui vedete gli operai che preparano il la base per il cippo la pulitura tutto intorno poi il cippo riparte dalla marmifera arriva al suo luogo dove viene posizionato e viene messo in posa con cura dagli operai. Va detto che queste persone oltre a essere gli addetti ai lavori va anche detto che poi hanno preso parte viva perché si sono appassionati a questa storia. qui le vediamo appoggiati dopo il lavoro e poi vedremo il gruppo di operai che proprio hanno lavorato per la riposizionatura. E questo è il cippo ripulito nella scritta che poi vedremo meglio in altre posizioni. Come vi dicevo io tutte le volte che transitavo dalla Cassia sapendo dove era questo cippo guardavo con lo sguardo di vederlo e se c'era. Il cippo era molto tempo che era lì posizionato e va detto che si sapeva che era fatto per un incidente delle mille miglia anteguerra però non si sapeva né il nome e né l'anno in cui era stato posizionato. E quindi quando ci fermammo una volta qui anche con Roberto Zalaffi e con Lorenzo Silvestri ex presidente del nostro club ci fermammo per andare a visionare una gara, una manifestazione di autostorica a Pienza a Montepulciano insistei per fermarsi lungo la strada proprio per vedere che fine avesse fatto questo cippo dopo che erano state completamente ripulite le piante che avete visto lungo la strada. Vedemmo il cippo rovinato nella scarpata e quindi fu, non dico un dolore, ma insomma eccetera. Però la contentezza anche di averlo ritrovato e così decidemmo immediatamente che il Siena Club Auto Moto d'Epoca lo avrebbe restaurato e riposizionato sul luogo. E qui proprio abbiamo il presidente sulla mia destra del Siena Club Auto Moto d'Epoca Roberto Zalaffi da me e da Lorenzo Silvestri, ripeto precedente presidente del club che abbiamo coinvolto insieme ad altri soci in questa avventura. Gli vogliamo chiedere come sia importante nel mondo delle auto e moto d'epoca far conoscere oltre che quello che è il movimento delle auto e delle moto anche il valore storico che accompagna queste iniziative. Intanto per cominciare buongiorno a tutti. Sono ben felice di essere qui in questa trasmissione in cui si parla di motorismo storico perché il Siena Club Auto e Moto d'Epoca, che è un club federato ASI, tra l'altro è il numero 47 per cui vi fa capire che oggi sono circa 280 i club federati ASI, vi fa capire quanti anni sono che noi siamo sulla breccia e ci interessiamo di auto e moto storiche. La conoscenza della storia delle auto e delle moto storiche è uno degli scopi principali dell'auto e moto storico italiano e il Siena Club Auto e Moto d'Epoca ne raccoglie chiaramente le indicazioni. Che cosa sono gli scopi principali dell'ASI? Sono il turismo e la cultura. Il turismo serve per far conoscere a tutti i soci dei club che poi sono sparsi in tutto il territorio e quindi ogni peculiarità del territorio viene percorsa, viene esaminata durante i raduni che facciamo e cultura, cultura che non è soltanto la cultura motoristica perché la cultura spazia un po' dappertutto nella storia, nell'arte e anche nella gastronomia perché quando andiamo a fare le nostre gite, i nostri raduni sono sempre incastrati nel percorso visite a musei e quant'altro che possa interessare i nostri soci. Quindi che cosa è la nostra prerogativa principale? Bisogna far conoscere ai nostri soci non solo la storia dell'auto ma anche la storia di tutti gli avvenimenti che sono stati il corollario alle attività durante la storia delle moto e delle auto. Ora con questo recupero abbiamo cercato di far conoscere anche in ambito nazionale non solo gli eventi legati al mondo delle corse, comprendendo non solo le auto ma chi le ha anche guidate. Ringrazio Roberto di questo suo intervento, però a questo punto io credo sia doveroso dire chi era Enrico Benini e cioè questa persona commemorata in questo cippo. Enrico Benini nasce nel 1905, il figlio di Pietro Benini e di Luisa Ferrari. Pasquale Benini, padre di Pietro, fonda nel 1842 la Fonderia del Pignone, il cui effettivo nome era Società Anonima Fonderia di Ferro di Seconda Fusione del Pignone. Nella foto che vediamo si vede la Fonderia del Pignone nella, diciamo, poco dopo la sua, diciamo prima della fine dell'Ottocento. Siamo a Firenze, questa foto oltretutto è fatta dal famoso ponte Sospeso, oggi è il ponte alla Vittoria e quindi di conseguenza siamo fuori della porta di San Frediano e quindi oggi sarebbe in pieno centro di Firenze. Ma voglio rimanere legato molto a questa Fonderia del Pignone, legandola al motore perché proprio Pietro Benini nel 1860 segue personalmente il primo modello funzionante quindi la sua scostruzione del motore a scoppio sul progetto dei due inventori Eugenio Barzanti e Felice Matteucci. Invenzione che nel suo principio sino ad oggi non ha visto nessun cambiamento, è sempre un pistone che crea compressione andando in giù in poche parole. E quindi sempre ricordando che il motore a scoppio è stato inventato da italiani e se si può dire campanilisticamente da toscani perché sia Eugenio Barzanti il cui nome vero era Niccolo che diventa padre Eugenio agli scolopi di Pietra Santa e dall'altro inventore Felice Matteucci di Lucca e la Fonderia del Pignone era a Firenze quindi eccetera. In questo francobollo infatti vedete commemorativo dei 150 anni dell'invenzione del motore a scoppio padre Eugenio Barzanti, Felice Matteucci e nel mezzo è quello il primo motore funzionante costruito nella Fonderia del Pignone a due cilindri eccetera. Ma torniamo a Enrico Benini. Studia, si prepara a divenire un futuro dirigente industriale e infatti questo vedete la foto di Enrico e segue le vicende dell'azienda familiare anche perché il padre nel 1913 muore. C'è un libro, Maledetti e Toscani, scritto da Maurizio Mazzoni e Francesco Parigi che parla della storia dei campioni del volante di Firenze e dintorni e nella scheda dedicata a Enrico Benini dice testualmente elegante, di bello aspetto, con viso regolare ma di allineamenti decisi capelli corvini pettinati alla mod con scrinatura Enrico vive la vita che si possono permettere in pochi ma senza eccessi, secondo l'educazione che si respira nella famiglia. I familiari e gli amici lo chiamano affettuosamente Bebe un soprannome che rende l'idea di quel bel giovanotto elegante e ammirato bon vivant di giorno e di sera amante di buone e discrete compagnie e soprattutto compagne descrizione semplice però perfetta per quella che doveva essere la vita e il mondo in cui viveva Enrico Benini e nelle sue compagnie viene contagiato anche da un gruppo di persone amanti del mondo dello sport Durante la presentazione del restauro del cippo che facemmo a Buon Convento nel maggio del 2017 avevamo ricercato ripetutamente di avere la possibilità di avere tra gli ospiti uno o più rappresentanti della famiglia Benini. Il nostro malgrado, le nostre ricerche non ebbero esito positivo però tra quel pubblico, tra il pubblico presente era presente una signora e durante questa presentazione si fece avanti dicendo di essere Marzia Benini e aveva con sé un grosso album che non so se è possibile inquadrarlo che è questo qui e questo grosso album di fotografie, eccolo qui che lo vedete nel centro grosso album di fotografie che ritraevano la storia e la vita di Enrico Benini e Marzia è qui presente con noi e proprio gli voglio chiedere ringraziandola sentitamente di essere venuta da Firenze dove abita gli voglio chiedere innanzitutto la sua parentela con Enrico Benini e come era venuta a conoscenza di questo restauro, di questo cippo e della sua presentazione. Buongiorno, io ho saputo per caso che di questo cippo, di questo ritrovamento mia sorella mi disse, ho visto sul giornale il giorno prima della vostra della vostra riunione mi disse, guarda ma hai visto cosa ho trovato sul giornale? e allora leggendo l'appuntamento a buon convento per Bebe e tutto ho preso, ho detto vabbè io vado, vado a vedere cosa succede vado a vedere cosa hanno trovato perché è sempre stato a cuore Bebe nella nostra famiglia perché comunque l'ho sempre sentito nominare perché Bebe è morto l'anno in cui la mia nonna era incinta di mio padre mio padre infatti è nato nel novembre del 30 e fu soprannominato Bebino proprio per Bebe quindi questo Bebe è sempre stato in famiglia e quindi ho detto vado e ho avuto la fortuna appunto di trovare Franco di trovare Roberto, lo Scame e tutti quanti voi ma effettivamente dici la tua parentela diretta Enrico era il fratello piccolo del mio nonno quindi c'è una parentela più che diretta con questo fatto nell'albume che non vi sto a sfogliare non ho conosciuto perché quando sono nata io è morta sia il nonno che Bebe ovviamente e in questo album e non sto a sfogliare perché eccetera si parla proprio, si vede tutta la vita di Enrico nella sua fase diciamo giovanile e poi è una persona che muore a 25 anni quindi molto molto giovane la mia nonna ha già perso il marito ha perso anche il figlio piccolo immagino la tragedia la tragedia eccetera e quindi torniamo a Bebe Benini quindi era coinvolto sicuramente in questo ambiente fiorentino dei motori tanto per citarvi alcuni nomi di questo gruppo Emilio Materassi, Gastone Brilliperi i fratelli Masetti, Clemente Biondetti e anche lui al volante di un Alfa Romeo 6C15 Super Sport il 3 giugno del 1928 si schiera la partenza dell'ottava edizione del circuito del Mugello quest'auto che vedete in questa foto questa è una foto che vedete di questa 1500 restaurata eccetera era una bellissima macchina nata e diciamo creata proprio uscita nel mercato nel 1928 nello stesso anno in cui Bebe Benini fa la sua prima corsa e questa è una macchina che nello stesso anno vince la 1000 Miglia, la 24 Ore di Spa la Targa Floreo, il circuito di Modena ma ha anche un altro grosso pregio quello di essere la prima vettura Spider prodotta dall'Alfa Romeo aveva 54 cavalli di potenza e raggiungeva per allora la velocità di 125 km orati e quindi per Enrico Benini inizia questa sua avventura di pilota e lo fa con una splendida gara arrivando quinto assoluto nella gara che lo vede esordiente al circuito del Mugello sulla sinistra non so quanto si veda bene è la classifica le classifiche sono proprio prese da un sito ufficiale belga che cura tutte queste classifiche mondiali dall'inizio della storia dell'automobilismo sino ad oggi quella che vedete inquadrata è la Talbot 700 non 700 di cilindrata ma è tipo 700 con cui Materazzi vince quella gara Bebe Benini arriva quinto assoluto con quella macchina e quindi è effettivamente una grossa grossissima prestazione partecipa nel mese di agosto alla seconda edizione della Coppa Ciano e si classifica all'ottavo posto nell'anno seguente nel 1929 nel mese di aprile si presenta al Via della Mille Miglia con una 1750 Super Sport Zagato che qui vedete sempre una vettura ben restaurata insieme all'amico Rodolfo Caruso Rodolfo Caruso che era figlio del tenore Enrico Caruso quindi qui ci sarebbe tutta un'altra storia da scoprire al seguito questo Enrico Caruso era uno studentello se così si vuol dire che studiava leggi credo almeno da quello che ho trovato negli archivi a Firenze e anche lui si cimenta non tanto come insieme a Enrico ma poi fa anche delle gare da solo in questa gara purtroppo si ritirano nel 1929 nella edizione della Mille Miglia e arriva questa la macchina che abbiamo visto era già un sogno per le persone diciamo di allora perché era il sogno di tutte le vetture degli amanti delle vetture che amavano lo sport dell'auto questa Mille Miglia nel 1929 vinta da Campari e con questa proprio 1750 Super Sport nello stesso anno partecipa alla non edizione del circuito di Mongello con la stessa Alfa Romeo 1750 e questa forse è la foto più bella che abbiamo di Enrico Benini Bebe Benini partecipa con quest'auto qui siamo a San Piero a Sieve dove erano la partenza e l'arrivo di questo circuito del Mugello e effettivamente fa un grossissimo esploit perché nella gara si classifica terzo assoluto ma battendo tutto il super squadrone ufficiale Alfa Romeo e tra i piloti che correvano per l'Alfa Romeo c'era Pintahuda Varsi Campari Biondetti Ferrari e Tazio Nuvolari Bebe Benini arriva terzo assoluto come vedete le foto delle ruote anteriori sono molto impolverate la vettura era super alleggerita senza parafanche e niente qui abbiamo un filmato molto molto interessante proprio di quella edizione del circuito del Mugello quindi prego di mandarlo in onda come vedete è sempre un filmato dell'istituto Luce eccetera circuito del Mugello vinto da Gastone Brilliferi quella macchina che poi è una Talbot la stessa che aveva vinto l'edizione del circuito nell'anno precedente qui si vedono sta pompando la benzina per il Signore purtroppo in tutte queste riprese non si vede la vettura di Enrico ma vedete come erano audaci queste persone che partivano in questo unico pezzetto asfaltato a San Piero a Sieve e quindi quello era il tabellone delle segnalazioni delle classifiche che venivano poi esposte eccetera si intravede la vettura qui un passaggio veloce di queste auto poi si intravede si vedrà anche quando si fermano nei box per le per i rifornimenti e la sostituzione delle ruote che venivano mangiate nello sterro perché effettivamente escluso questo pezzetto il circuito era tutto sterrato un circuito di circa 80 km da ripetersi se non erano 6-7 volte e quindi non erano facilmente gestibili queste vetture a volte vedete due persone non solo il pilota che era il meccanico che poteva servire nei momenti critici o di qualche problematica ma molto spesso era anche il cosiddetto contrappeso cioè spesso si sporgeva da una parte e dall'altra per cercare una maggiore stabilità della vettura perché vedete con queste piccole ruote non era che fosse tanto semplice questa è la vettura che poi vincerà la gara con brilliferi eccoci qui siamo ai box ora vedrete anche una vettura questa è molto bella perché credo sia se è la numero però si vedrà la numero 40 sono i fratelli Maserati su una Maserati quindi c'è anche un'altra storia pazzesca dietro la Maserati ecco vedete la messa in moto era la classica manovella anteriore che dava il via al motore ed eccoci qua il filmato il vincitore che arriva acclamato da tutte le persone ed eccoci qua che a questo punto si passa al 1930 e vedremo poi dopo la pubblicità che andrà in onda quella che è la gara che poi ha interessato il cippo che è stato restaurato quindi pubblicità e allora come dicevo si passa al 1930 il 12 di aprile insieme al Conte Vinci Enrico Benini si presenta alla partenza della quarta edizione della Mille Miglia qui vedete una bellissima foto questo è lo squadrone Alfa Romeo siamo in un piazzale a Brescia dove sono messe tutte le Alfa Romeo partecipanti a questa edizione della Mille Miglia o almeno le Alfa Romeo più papabili più papabili per la vittoria e al centro vedete quella con il numero 132 con appoggiato Enrico Benini e il Conte Vinci questo era diciamo partecipo a questa vettura abbiamo saputo oltretutto anche il colore era verde scuro da una testimonianza di una persona centenaria che vide questo famoso incidente c'è un'altra foto molto bella secondo me che segue questa qui non so se qualcuno di voi ieri ha visto il Gran Premio di Formula 1 che si è svolto a Imola e avrete visto quante persone intorno ai piloti prima della partenza in tutti i momenti ecco qui siamo prima della partenza di una gara questi piloti sono Varsi e Nuvolari che si fumano una loro sigaretta sono super fumatori queste persone si parla di circa sei pacchetti al giorno per Nuvolari altrettanto per Varzi eccetera che sono prima della partenza di una gara che sono seduti appoggiati alla ruota della vettura in attesa della partenza diciamo tutto un altro mondo sicuramente diverso ma qui forse più leale più semplice e anche più bello poi queste foto sono veramente belle e quindi c'è Varsi e Nuvolari tutte e due si schiereranno alla partenza della quarta edizione della Mille Miglia e sarà Nuvolari a vincere proprio davanti a Varsi questa è l'edizione famosa in cui Nuvolari passa nella notte prima di Verona a fare i spenti si dice su un'idea del suo coi pipè Guidotti passa a fare i spenti nella notte Varsi per arrivare primo proprio con la sua macchina davanti a Brescia al traguardo delle Mille Miglia e questa foto forse è l'ultima che si vede di Enrico Benini qui siamo a Firenze al piazzale Michelangelo come vedete la vettura numero 132 transita al controllo a timbro di piazzale Michelangelo a Firenze e come si dice il libro per tornare a quel libro Maledetti e Toscani citato attualmente è difficile dire se davvero Bebe Benini abbia pensato anche per un solo momento di fare della sua passione per i motori qualcosa di più di un passatempo diverso e divertente come una piccola sciata sulla neve o in barca a vela questa è una domanda destinata a restare senza risposta in effetti la risposta non si può dare perché al passaggio sul ponte delle ferlate dopo buon convento l'audace giovinezza come riporta il cippo di Enrico Benini venne stroncata infatti nella nazione di quelle giornate si vede in questa foto che sulla sinistra si vede la nazione del 13 aprile del 1930 oltretutto è la foto scusate la pagina nazionale dell'informazione si cita attualmente incidente a buon convento e muore il pilota Benini e c'è una descrizione perfetta dell'incidente cosa che allora era essenziale senza nessun altro mezzo per poter sapere come andavano gli avvenimenti in quegli anni e poi sulla destra è il resoconto delle oneranze funebri fatte ad Enrico Benini a buon convento stesso c'è una lista di partecipanti di moltissime persone amici familiari e rappresentanti del governo perché va detto che la famiglia Benini oltre a essere moltissimo conosciuta a Firenze ma era conosciutissima in campo nazionale perché le fonderie del Pignone erano le fonderie italiane per eccellenza in quel momento e l'incidente avviene proprio sul ponte delle ferlate o serlate c'è sempre stata una disquisizione con questa F o S in un tratto di strada che negli anni 30 era leggermente differente vedete quel tracciato rosso che si vede subito dopo il ponte la strada tendeva leggermente sulla sinistra creando una semicurva infatti il giornale parla che Benini che era il volante della vettura in quel momento e che si dice aveva raggiunto il sesto posto assoluto come classifica nell'affrontare questo ponte in questa specie di S che inseguiva altre vetture forse con la polvere alzata dalle altre perde il controllo batte sul ponte e viene sbalzato fuori dalla vettura insieme al Conte Vinci il Conte Vinci fortunatamente rimane illeso invece Bebe Benini cade sotto il ponte batte la testa in un sasso così ripeto quello che dice il giornale e si può dire quasi muore sul colpo anche se trasportato poi all'ospedaletto di Buon Convento eccetera e lì diciamo rimane fino alle onoranze funebri nel cippo commemorativo si legge testualmente per ricordare l'audace giovinezza di Enrico Benini tragicamente stroncata un amico quella frase è strettamente legata alla famiglia parenti infatti poco prima se si pensa Enrico Benini era transitato da Ponte d'Arbia e questo è il cippo che si vede in questo libro in questa raccolta di foto ripeto era transitato da Ponte d'Arbia e transitato davanti alla villa di Serravalle di proprietà della famiglia parenti e questa parenti e famiglia erano amicissimi della famiglia Benini e quindi si vuol dire che Enrico era passato davanti agli amici qualche chilometro in precedenza per poi dopo andare a trovare tragicamente la morte pochi chilometri dopo la famiglia parenti va detto ospitava oltretutto dopo questo incidente molto spesso la madre di Enrico che veniva tutti gli anni o comunque anche più sovente così a onorare un altro piccolo cippo che poi vediamo nelle foto seguenti per diciamo portare dei fiori e quindi nella nostra ricerca non sapevamo chi fosse il componente della famiglia parenti ma gentilmente Marzia ce l'ha svolato con questo album perché dice il cippo offerto da Angelo Parenti in onore di Enrico Benini questo è il piccolo cippo invece fatto erigere dalla madre che era sottostante al ponte e forse dove fu ritrovata la vettura o Enrico Benini questo non siamo tenuti a saperlo si vede anche nelle foto seguenti questo cippo si vede l'arco del ponte e questo cipresso a significare la giovinezza stroncata di questa persona e poi c'è un'altra foto con una piccola lapide ecco questa era la lapide sul ponte eretta sul ponte qualche anno dopo che commemorava il fatto e non so se si riesce a leggere però molto bella la frase finale che qui si ferma il cuore e il motore chiedo a Marzia chi sono quelle due ragazze che sono una femmina e un maschio che sono i fratelli grandi di mio papà la zia Nina soprannominata Nina ma Luisa e lo zio Nicchi che era Enrico si chiamava Enrico Enrico quindi una storia che si riempia tutti uguali e quindi chiedo gli chiedo ulteriormente a Marzia come ha ritrovato o trovato questo album e che cosa lei si ricorda effettivamente nelle storie della sua famiglia di questo Enrico Benini di Bebe l'album è sempre stato in casa Enrico è sempre stato nominato col fatto che mio padre si chiamava come lui è sempre stato raccontato di Bebe e l'album è sempre stato a casa quindi quando io ho visto quella fotografia del giornale tutto quanto è stato distinto l'ho preso e me lo sono portato dietro per farvelo vedere perché mi sembrava insomma una cosa fatta bene e niente lui è sempre stato oggi abbiamo un busto della testa di Bebe bambino di Romano Romanelli con cui sono cresciuta quindi per me Bebe è sempre stato in casa ho sempre vissuto in casa ho sempre la sua storia eccetera e questa cosa di questo cippo era un mistero perché ogni volta che si passava ogni tanto da buon convento o così uno guardava ma questo famoso cipresso di Bebe non si sapeva dove fosse quando ho visto avete ritrovato il cippo ho detto caspita che meraviglia gratissima tutta la famiglia tutti noi io sicuro molto pensando alla mia nonna bisnonna eccetera chissà che che bello per Bebe essere riportata la storia di Bebe alla luce insomma bello bravo grazie grazie tanto davvero anche perché molto spesso ripeto un po' come diceva Roberto prima ci piace raccontare vivere con queste macchine quali sono state le avventure diciamo motoristiche vere e proprie cioè cimentare queste macchine nelle strade di allora il Siena Club Automoto d'epoca organizza una manifestazione che si chiama sulle strade dell'eroica è una manifestazione per auto anteguerra e cerchiamo di riportare queste auto sulle strade a sterro spesso con qualche contrarietà da parte dei proprietari che dicono ma insomma la polvere eccetera la polvere allora per queste macchine era il pane quotidiano perché nascevano per viaggiare su quel tipo di strada ma soprattutto ci piace anche capire i motivi per cui si spostavano verso determinate destinazioni o effettuavano determinate manifestazioni quando abbiamo parlato la scorsa volta delle mille miglia il mondo che nasceva intorno alle mille miglia era pazzesco cioè pensate che la gente aspettava giornate intere per vedere passare le mille miglia ma avvertiti da chi da un tantam radiofonico oppure da un tantam dato dai giornali cioè le notizie non correvano rapidamente oltra rapidamente come si muovono oggi erano notizie che passavano di bocca in bocca però tutti erano presenti non so se vi ricordate la scorsa volta vedevamo delle persone che assistevano al passaggio delle mille miglia con in mano il giornale con l'elenco degli iscritti e ora la stampa di un elenco degli iscritti quasi non viene più fatta perché uno se vuole si porta dietro il tablet e se lo guarda in internet e sono due modi completamente diversi di assistere a una manifestazione non siamo ieri abbiamo visto ripeto un gran primo di formula 1 benissimo cioè conoscendo molto bene il circuito di Imola è affascinante vederci le vetture di formula 1 ma spesso c'è anche il semplice fatto di analizzare la vettura e non l'evento di per sé non si è parlato mai se non pochissimo di Ayrton Senna ieri che la gente in tutto il mondo sa perfettamente della tragica morte di Ayrton Senna nel circuito di Imola e quella è la storia che lega molto spesso l'evento a un qualcosa che è avvenuto e il motivo per cui Imola che Imola prima la strada c'era una strada che veniva chiusa appositamente per creare il circuito e ci fu una grande diciamo disputa tra gli abitanti di Imola per creare effettivamente il circuito in maniera fissa come lo vediamo oggi e poi invece crearlo diciamo o lasciarlo mezzo e mezzo strada e tutto ora poi abbiamo la pubblicità e dopo la pubblicità andremo alle conclusioni di questo nostro programma e comunque vi facciamo vedere com'è il cippo ora com'è il cippo nella sua versione attuale l'abbiamo messo con delle piante come vedete dietro abbiamo riportato quella lapide messa a mano va detto messa materialmente da noi a mano con una sudata pazzesca e comunque abbiamo messo questi piccoli diciamo colonnini all'esterno che indicano le distanze da questo punto da un lato a Roma e da un lato a Brescia per identificare e quindi qui il Siena Club automoto d'epoca quando passa le mille miglia normalmente le aspetta qui anche se l'ultima volta con un po' d'acqua data dal tempo eccetera non c'è un lavoro pazzesco io a Roberto voglio chiedere i motivi soprattutto che hanno spinto il Siena Club automoto d'epoca a restaurare e a ripristinare a riposizionare questo scippo nel luogo oltretutto involontariamente crediamo da quelle piantine che abbiamo visto dove era naturalmente dove era posizionato nella sua realtà ma io penso che sia stata abbiamo praticamente colto la palla al balzo appena abbiamo veduto che questo scippo era recuperabile e la stava trovato come aveva detto Franco durante uno dei nostri girovagare per organizzare le nostre manifestazioni e con lo spirito che ho detto di anzi cioè della conoscenza del mondo dell'auto d'epoca abbiamo scavato per vedere da dove veniva come veniva questo scippo da chi l'aveva fatto che cosa commemorasse abbiamo scoperto anche per esempio che contrariamente a quello che succede oggi anche con la rievocazione della mille miglia le macchine le auto venivano da buon convento e si dirigevano verso Roma e non il contrario per esempio che il cippo che era stato gettato probabilmente di sotto perché era stato urtato da qualche mezzo meccanico durante la risistemazione della strada e nessuno si era assolutamente aveva pensato di risistemarlo al suo posto cosa invece era doverosa perché non era una cosa una stele che è inutile era qualcosa che commemorava e che commemorava gente coraggiosa lui Enrico Benini era un coraggioso un audace perché se ci pensate bene avete visto quelle macchine con cui correvano quelle routine strette i sistemi di sicurezza assolutamente neanche uno erano tutto motore anche perché i piloti era solo quello che gli interessava le strade erano completamente sterrate la polvere oscurava praticamente tutto anche soprattutto se uno era dietro un'altra macchina e questo probabilmente è quello che ha causato l'incidente un'altra cosa che abbiamo scoperto dalle cronache è che Enrico fu portato all'ospedale di Buon Convento l'ospedale di Buon Convento era probabilmente verosimilmente come esistevano anche in altri paesi un posto di primo soccorso chiamiamolo in cui magari la popolazione poteva rivolgersi se aveva qualche necessità medica ne abbiamo trovato un altro per esempio sempre nei nostri vagabondare per la provincia di Siena per trovare strade adatte alle nostre manifestazioni anche a Radicofani ora chiaramente il Siena Club auto e moto di epoca ha voluto recuperarlo metterlo dove era e soprattutto dobbiamo ringraziare anche la provincia perché questo cipo che pesa 900 kg era improponibile che con i nostri mezzi potessimo risistemarlo quindi è stata una sinergia di intenti fra di noi che abbiamo iniziato a risistemarlo e chi ci ha potuto aiutare bene e quindi ringrazio Roberto di queste sue parole che oltretutto quando ha detto provincia finale ripeto le persone che ci hanno aiutato sia della provincia del gruppo di operai e della ditta che ha ripristinato il cippo oltre ripeto a quello che era il loro modo di lavorare il loro lavoro fatto hanno preso passione a questo fatto abbiamo trovato una persona che ci va a pulire il cippo intorno al cippo delle erbe che nascono e anche lui è diventato appassionato della storia di questa persona vi dico solo una cosa e questa è strana quando avevamo eravamo nella fase di restauro e di riposizionamento in un'abitazione che è a monte del cippo ma di questo cippo sulla collina venne una persona dicendo guardate scusate dice io ho trovato questo dietro un quadro cioè aveva un quadro appeso al muro e dietro un quadro aveva trovato il santino cioè quel come si dice biglietto quando moriva una persona che ci veniva messa la data della morte la fotografia della persona eccetera il motivo per cui questa persona avesse dietro il quadro questo santino di commemorativo della morte di Enrico Benini è impossibile saperlo però la stranezza che era a distanza di 100 metri 200 metri da dove era posizionato e dove è ora posizionato il cippo sarebbero tantissime altre storie da portare avanti e molto spesso quando si va a fare le ricerche bisogna avere il paraocchi perché se uno non tiene una linea molto spesso siamo portati a interessarsi di tante cose e forse a dimenticarsi di quella che era la linea principale ripeto siamo al termine di questo nostro incontro ringrazio i nostri gentilissimi ospiti Marzia Benini e Roberto Zalafi grazie della cosa speciale la ringrazio della loro partecipazione ringrazio la regia che ci ha seguito in tutte queste proiezioni di foto e di filmati e mi auguro anche di avervi interessato in questa nostra storia di passione per il motore vi diamo posso fare una piccola marchetta diciamola chiamiamola così per il Siena Club Auto e Moto d'epoca se fra i telespettatori c'è qualcuno che ha una macchina di oltre 20 anni a cui è affezionato e che gli piacerebbe magari risistemare restaurare iscriverla all'auto moto storica italiana ci può venire a trovare noi siamo in viale Toselli 11 barra 9 accanto al Penni ci sono due colonnette di mattone una stradina asfaltata che va in salita noi siamo in quel piazzale adesso per adesso tranne delle problematiche governative siamo aperti il giovedì dalle 21 alle 23 e il sabato dalle 16 alle 18 se qualcuno è interessato siamo ben felici di aiutarlo a curare la propria auto d'epoca grazie a tutti poi Franco il mio terzo figlio si chiama Enrico già ci siamo dimenticati che il terzo figlio di quindi c'è un tramandarsi nella famiglia Benini di questo nome Enrico Enrico che si tramanderà poi anche in futuro e si è appassionato di auto d'epoca anche lui comunque mi auguro veramente di avervi interessato con questa nostra storia la nostra passione e amore per il mondo del motore al termine della trasmissione verrà proiettato un filmato molto bello sulle mille miglia fatto proprio direttamente dalle mille miglia ma io vi voglio lasciare incuriosendovi con questa ultima foto che prego di proiettare e si tratta del nell'agosto si vede poco sotto la diretta ma si chiama circuito di Siena siamo il 18 agosto del 1947 subito dopo il Palio e siamo a Bolidi alla Lizza e quindi vi lasciamo con questa foto e vi auguriamo un buon proseguimento di trasmissioni con le trasmissioni di Canale 3 ciao 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 Grazie a tutti. 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 Stirling Moss, Alberto Ascare and the Count Giannino Marzotto have all written their names in the story of this Brescian race. Today, the Mille Miglia is more alive than ever. It brings to the streets of Italy its prestige, its excellence and its uniqueness. In Brescia, today as in the past, the cars are finely tuned to be at peak performance to face the long challenge. The Mille Miglia, and they're off. The Mille Miglia, and they're off. The Mille Miglia, più di 530 macchine per la furibonda cavalcata di oltre 1500 km. Tutti i motori premono al massimo dei giri, mentre i piloti schiacciano sempre più. Ora è il turno dei grossi calibri. Sono tutti partiti, assi e no, debuttanti e campioni. Si mette in movimento adesso il delicato ingranaggio organizzativo. La Mille Miglia, every year, touches around 200 municipalities. Le segnalazioni affluiscono, i cronometristi iniziano i loro complicati calcoli al centesimo di secondo. It draws hundreds of thousands of people along the Italian streets. Oggi, la Minimiglia è una rara regola, open to all models of historic cars which have participated at least once in the original race. The first edition, that of 1927, was won by Ferdinando Minoia and Giuseppe Morandi on board their OM665S. Their average speed for the time is a dizzying 77 km per hour. Alba piovosa sul Po a Pontellagoscuro. Ormai non saranno più i fari a disegnare il nastro della strada. Può dirsi fortunato chi invoca un passaggio a livello un attimo prima che calino le sbarre. Non può dirsi fortunato quest'altro. Per recuperare il tempo perduto dovrà correre più di un direttissimo. verso Narni si corre in uno dei più pittoreschi paesaggi dell'Italia centrale. E quando la stagione si deciderà ad essere bella, queste strade che oggi mettono alla prova i migliori piloti internazionali diventeranno incantevoli itinerari turistici. A presto! A presto! il controllo segna praticamente la metà corsa stanga è finora primo delle sport 750 il barone lazzaroni regola il transito rifornimento devono motori e uomini rasciugati dai chilometri la testa degli appassionati non è meno ansiosa di quella di coloro che hanno parenti in gara la bella ingrid sorride mascherando l'ansia ma il marito giunge in perfetto orario per il prato di mezzogiorno un bacio al piccolo robertino e il film motoristico di rossellini si conclude con una carrellata verso il focolare domestico è detto che chi arriva prima in rome con grande difficoltà manages a win in Brescia il climb back home è il più delicato della racia dove i motori e i cari hanno bisogno di dare il loro besta ma anche il maltempo sembra luminoso sulle alte curve tra Castillo Cielo e Nivorno uno dei tratti belvedere dell'Aurelia dove ogni svolta sembra cantare visitate l'Italia a Pisa incontriamo la sbrullata che diventerà con la punta rivediamo la piccola Isetta ha vinto la dipendente i passi dell'Apennino Cosco Emiliano e i superstiti di una durissima selezione che hanno perduto anche Maglioli si gettano verso Bologna e le strade della pianura palata la prima storia è stata riuscita in 1957 Piero Taruffi won it on his Ferrari 315 Sport His average speed is an impressive 152 km per hour But the record remains that of Sterling Moss Who in 1955 won with an average speed of 157 km per hour A Pharma si torna all'alta velocità, un brivido Ma la 1100 di Borghi si è subito rimessa in linea Ecco Sterling Moss, tagliare il traguardo da Trionfatore Nuovo primatista della 1000 Miglia a 157,650 di media Nero come il diavolo, diavolo della velocità Piove a tirotto a Brescia, Castellotti compie l'ultimo audace e pinto La 1000 Miglia che ha riconfermato sulle belle strade d'Italia La sua imperitura essenza di audacia e di progresso The 1000 Miglia today is the past which meets the future in a rite In a celebration that will remain immortal forever The 1000 Miglia is the most beautiful race in the world The 1000 Miglia is the most beautiful race in the world The 1000 Miglia is the most beautiful race in the world Nero come il diavolo, diavolo della velocità La 1000 Miglia è polverita il primato Paso Certo 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 La 2000 Miglia è parA Grazie a tutti.